La maturità è una tappa sempre importante, quest'anno ha un sapore speciale, diverso, anomalo, che cosa provi? Un po' in ansia però spero di poter dimostrare le conoscenze acquisite quest'anno comunque, di riuscire a fare del mio meglio per raggiungere un buon risultato e dimostrare che nonostante questo periodo sia stato un po' difficile sia per la scuola che per noi studenti comunque, con lo studio, con l'organizzazione in generale che comunque sia siamo riusciti lo stesso a fare un buon lavoro e speriamo bene insomma. Siamo finalmente arrivati a questo giorno fatidico, quello della maturità 2020 con la prova unica, una prova diversa dopo tre mesi e mezzo di didattica a distanza tante ansie e tante paure, soprattutto il problema di non aver condiviso la famosa notte prima degli esami, quella notte tanto cantata e celebrata nei film ma sembra sia andato tutto bene, i candidati che abbiamo sentito sono usciti soddisfatti nonostante la prova particolare. Sei stato tra i primissimi ad essere interrogati in questa maturità del 2020, com'è stato l'esame? È stato come mi aspettavo, è andato bene perché comunque ci eravamo preparati e il grande merito va al nostro insegnante, al nostro consiglio di classe perché è un consiglio di classe veramente valido che ci ha garantito sin dai primissimi giorni di questo lockdown comunque ci ha garantito il supporto e la didattica a distanza. Come si è svolta la prova? Cosa ti hanno chiesto? Innanzitutto, come è stato stabilito, siamo partiti dall'elaborato della materia di competenza che appunto per la ragioneria era economia e dopo nella seconda fase del colloquio, oltre alla cittadinanza della Costituzione e al percorso PCTO di alternanza comunque ci sono state le domande e l'interdisciplinarità delle altre materie. Sei appena uscita, quindi un'emozione fortissima. Com'è andata? Bene, bene, anche in questa situazione comunque difficile, siamo riusciti a portare avanti il programma e comunque anche i professori sono stati super professionali con la didattica a distanza e siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare, anche l'esame, anche se in questa forma un po' strana per noi, poi soprattutto per me che sono la prima, è stato molto molto bello, comunque un'emozione forte. Io facendo il linguistico sono partita dalle mie lingue di indirizzo, ovvero il tedesco e l'inglese, con un elaborato preparato e poi sono seguite le domande e la consegna di un documento da cui partire per poi collegare tutte le materie. Cosa ti è mancato di più in questa maturità, tra virgolette, a distanza, sei rientrata oggi dopo tre mesi e mezzo? Soprattutto mi è mancata la notte prima degli esami con gli amici e non lo so, un po' la presenza appunto dei miei amici, il calore fisico, il contatto con i professori, però anche così è stata unica.